Prima di cominciare questo shorts io volevo solo dirvi di seguire Sofia Sofietti E' praticamente quella che ha vinto sul posto di Io sono Chloe E si è vinto ben 800 euro per una cosa di Brookhaven E io comunque ci stavo rimanendo male Però a un certo punto ho detto E ma comunque se lo merita dopo il commento che ha scritto è stato fantastico E comunque lei voleva tantissimo questi Robux e quindi ora ce li ha Si chiama Sofia Sofietti su Youtube Andatela a seguire E comunque magari la trovate nei commenti del mio canale Quindi che aspettate? Iscrivetevi Oddio la casa abbandonata ci vado subito a fare del certo scherzetto Dolcetto scherzetto Lo scherzetto di ucciderti